Ben ritrovati per la penultima puntata di Agresta 2014. Eh sì, siamo quasi arrivati anche alla fine di questo ciclo, mettendovi a disposizione una puntata in più rispetto a quelle che avevamo preventivato all'inizio, 21 invece di 20. E in questa ventesima puntata continueremo a parlare di come sta andando la campagna 2014 di un prodotto fondamentale per l'agricoltura ferrarese, la pera. Già da un po', ogni settimana, vi diamo aggiornamenti sull'andamento produttivo e commerciale delle culture più importanti per il nostro territorio. Considerando che in provincia di Ferrara nel 2014 sono stimati 13.111 ettari di frutteto e che di questi 8.753 sono di pero, oggi l'intera puntata sarà dedicata a capire come sta andando il mercato di questo prodotto e quali sono le prospettive future e le azioni che bisognerebbe mettere in campo, è proprio il caso di dirlo, per mantenere in piedi il comparto. Pera quindi al centro anche della parte tecnica di oggi, vero Riccardo? Certo Tania, intanto un saluto a tutti voi anche da parte mia. Nella parte tecnica di oggi infatti parleremo di come conservare le pere, in particolare della batte, considerando che da alcuni anni in Europa, tranne qualche eccezione, non è più possibile utilizzare le tossichine per combattere il riscaldo, una malattia che si sviluppa durante la frigoconservazione. Sentiremo l'esperienza di alcune strutture del territorio ferrarese che ci hanno dato disponibilità ad essere intervistati su questo argomento, sul quale non tutti hanno voluto esprimersi. E da queste esperienze passeremo poi alle indicazioni di chi sulla frigoconservazione ci sta lavorando da anni, vale a dire il CRIOF dell'Università di Bologna. Bene, allora cominciamo a parlare di ortofrutta. In queste ultime settimane abbiamo sentito parlare spesso di richieste di interventi urgenti da parte dell'Unione Europea per cercare di limitare i danni di un mercato dell'ortofrutta appunto decisamente in difficoltà, con sovrapproduzioni, stagione che non invogliava i consumi, embarghi e con prezzi bassissimi alla produzione. La settimana scorsa al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali c'è stata una riunione per fare il punto sulla situazione, anche alla luce dei recenti provvedimenti assunti proprio dall'Unione Europea. Per quanto riguarda le misure d'emergenza a supporto dei produttori di pesche e nettarine, l'UE ha previsto un totale di 32,7 milioni di euro in tutta Europa per fronteggiare la crisi di mercato. Questa misura sarà retroattiva dall'11 di agosto e valida fino al 30 settembre 2014. Secondo il regolamento comunitario, 29,7 milioni serviranno per finanziare i ritiri e 3 milioni per la promozione. La decisione prevede di aumentare dal 5 al 10% la quantità massimale di produzione delle OP che può essere ritirata dal mercato per la distribuzione gratuita, fissandola a un prezzo di 269 euro a tonnellata per un totale stimato di 22,1 milioni di euro di aiuti comunitari. Per i produttori che non sono membri di OP, invece, il contributo UE per i ritiri è fissato al 50% di quello delle OP, per una somma stimata di 7,6 milioni di euro. Il regolamento prevede per le OP finanziati al 50% ulteriori 3 milioni di euro, di cui 1,288 per l'Italia che risulta il principale beneficiario per le attività di promozione finalizzate a stimolare i consumi di tali prodotti nel periodo 11 agosto 31 dicembre 2014. Relativamente alla crisi di mercato derivante dall'embargo alle merci comunitarie e di altri paesi da parte della Russia, siamo rimasti al comunicato stampa di cui vi avevamo già parlato nella scorsa puntata. Riassumendo, sono stati stanziati 125 milioni di euro per tutti i paesi dell'Unione. I prodotti interessati sono pomodori, carote, cavolo bianco, peperoni, cavolfiore, cetrioli e cetriolini, funghi, mele, pere, frutti rossi, uva da tavola e kiwi, per i quali sono previsti i ritiri dal mercato soprattutto per la distribuzione gratuita in beneficenza, nonché per le operazioni di raccolta verde e mancata raccolta. Tali misure saranno retroattive dal 18 agosto. Per quanto riguarda il problema dell'embargo, ha spiegato il Ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, chiediamo che i fondi siano implementati con ulteriori risorse. Su questo aspetto, che sarà trattato dal Consiglio straordinario dei Ministri dell'Agricoltura programmato per il prossimo 5 settembre, è emersa la necessità di ampliare in modo congruo anche la lista dei prodotti rispetto a quanto preannunciato dalla Commissione europea. Le pere rientrano quindi tra le produzioni che potranno godere di queste misure e a quanto pare ce n'è davvero bisogno, viste le recenti quotazioni delle Camere di Commercio, che questa settimana comprendono anche i primi prezzi per la pera a abate, 0,40-0,50 euro al chilogrammo. Con questi prezzi non si coprono i costi di produzione, ormai lo abbiamo già detto tante volte. Ma perché si è arrivati anche quest'anno a una situazione del genere? Come uscirne e come evitare che si ripresenti anche nei prossimi anni? Alle strutture che ci hanno dato disponibilità per parlare, come anticipato da Riccardo Loberti, di frigoconservazione e di etossichina, abbiamo girato queste stesse domande. L'opera è nata nel 2007 con 40 produttori circa, produciamo circa 100.000 quintali di pere, perché la nostra è una OP che produce pere ed è specializzata in questo settore, in particolar modo la abate, il 98% del nostro prodotto è per abate. I nostri mercati di sbocco sono soprattutto l'80% all'estero e il 20% in Italia. Come la vedete quest'anno per la pericoltura? Un mare in burasca e purtroppo al momento non vediamo nemmeno delle schiarite, perché ci troviamo di fronte dei mercati che prevedono dei cali di consumi considerevoli e oltretutto diciamo che le nuove iniziative prese da Putin con la Russia e le vicissitudini che stava vivendo la Libia ci chiudono due porte di mercato che per noi erano molto importanti, sia per il prodotto di piccola pezzatura, sia per il prodotto di grossa pezzatura per quanto riguarda la Russia. Qual è secondo lei la ricetta, se così la possiamo chiamare, per risollevare questo settore? Come la vedete? Ma secondo noi il problema è di tipo strutturale, dunque gli elementi sono due, concentrazione dell'offerta da parte del mondo commerciale e aggregazione della produzione. Purtroppo oggi la produzione è molto disaggregata e si trova di fronte a dei comparti, degli anelli della filiera molto ben organizzati come le catene commerciali eccetera. Un tentativo in questo senso sembra essere quello fatto dallo IPER, ecco voi come la vedete? L'organizzazione interprofessionale secondo noi è uno strumento importantissimo che deve essere sostenuto e deve andare avanti perché ha la possibilità di mettere sullo stesso tavolo i tre fondamentali anelli della filiera che sono produzione, commercializzazione e industria. Voi avete aderito, sì perché, no perché? Per il momento OPERA non è ancora all'interno dell'organizzazione interprofessionale, l'abbiamo sponsorizzata, dopodiché abbiamo avuto qualche perplessità per quanto riguardava la rappresentatività della produzione e quindi per il momento non siamo ancora entrati, ma stiamo dialogando per fare anche questo passo. Operativamente che cosa propone OPERA? Secondo noi bisognerebbe costituire un tavolo di lavoro che preveda la partecipazione di tutte le associazioni dei produttori che sforni idee e proposte da porre a tutto il mondo che è legato alla filiera del comparto frutticolo, nel nostro caso del comparto OPERA. Quindi anche alla distribuzione? Certamente, soprattutto alla distribuzione, diciamo che uno degli obiettivi nostri sarebbe quello di tentare di ridistribuire meglio il reddito che proviene da questo tipo di colture. E riguardo alla concorrenza che ci possono fare altri paesi, qui c'è qualcosa da fare secondo voi? Ma per vincere la concorrenza con gli altri bisognerebbe lavorare sui costi di produzione perché alla fine quello che è la legge delle grandi catene del commercio è il prezzo, sembra purtroppo ultimamente anche discapito molto spesso della qualità, anche perché voglio dire le nostre produzioni in Italia qualitativamente sono ineccepibili, secondo il mio modesto parere sono molto spesso molto superiori a quelle che importiamo dall'estero. Abbiamo un esempio eclatante l'anno scorso legato all'importazione veramente massiccia di pera trattata con etosichina quando in Italia era impossibile trattarla, però certamente se parliamo di tutela della salute del consumatore, allora voglio dire se non possiamo farla l'anno scorso legato, almeno non importiamo prodotto trattato in questo modo.